ciao a tutti oggi prepareremo il riso con ceci il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa gli ingredienti sono ceci giallessati riso acqua una fogliolina di alloro olio dado bimbi scalogno carote pomodorini rosmarino sale e pepe diamo il via diamo il via alla ricetta iniziamo mettendo all'interno del boccale i pomodorini le carote e rosmarino lo scalogno e facciamo dritare per cinque secondi a velocità 7 veniamo il fondo del boccale adesso aggiungere l'olio facciamo insaporire tre minuti 120 gradi velocità 1 adesso mettiamo la fogliolina di alloro di ceci che avevamo precedentemente già allessato il sale il pepe un cucchiaino di dado vegetale fatto col bimbi l'acqua adesso facciamo cuocere per 15 minuti 100 gradi anti orario velocità 1 adesso andiamo ad aggiungere il riso e diamo una mescolata per evitare che il riso si attacchi durante la cottura facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione del riso nel nostro caso 12 minuti 100 gradi anti orario velocità 1 il nostro risotto è pronto andiamo a impiattare riso e ceci grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti